Dobbiamo anche sbloccare i milioni di tonnellate di grano che sono bloccati nei porti del Mar Nero. Ci sono, ho appreso oggi, ci sono due settimane per sminare i porti, il raccolto arriverà alla fine di settembre e una serie di scadenze che diventano sempre più urgenti. Sono scadenze che ci avvicinano regolarmente, inesorabilmente al dramma. Per farlo, per superare questo terribile, per evitare questo terribile evento, occorre creare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano, perché la crisi umanitaria in Ucraina non deve trasformarsi in una catastrofe mondiale. L'unico modo di procedere è avere una risoluzione delle Nazioni Unite che regoli la creazione dei corridoi nel Mar Nero. La Russia finora l'ha rifiutata. Questo è il momento dell'Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stesso coraggio che ha dimostrato il Presidente Zelensky, con determinazione, con unità. Lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo agli europei.